Sarà il comune di Bucine a farsi carico delle esequie della piccola di tre anni e mezzo uccisa dal padre lo scorso 21 aprile all'interno di una manzarda di via Togliatti a Levane dove la famiglia abitava. Sul corpo della bimba nei giorni scorsi è stata effettuata l'autopsia. L'esame ha confermato che la morte è stata provocata da due coltellate alla gola e al mento. Non sono invece emerse tracce di maltrattamenti o violenze pregresse. La salma verrà così presto restituita alla famiglia. Il corpo della piccola riposerà nel cimitero di Levane in una porzione dedicata alle sepolture islamiche. La madre e il fratello della bimba hanno infatti espresso il desiderio di continuare a vivere in Valdarno dove erano arrivati nemmeno un anno fa. Il comune si sta così prendendo cura della donna e del ragazzino che è ancora ricoverato all'ospedale della Gruccia. A seguito delle ferite riportate il dodicenne infatti è riuscito a sfuggire alla folle furia del padre mettendosi in salvo in casa di una vicina. Resta ancora ricoverato in un ospedale fiorentino nel reparto di malattie psichiatriche anche il padre Bilal Mial, l'operaio 39enne originario del Bangladesh che in un raptus di cieca follia ha prima aggredito e ferito il figlio e poi ucciso la piccola. Ancora non avrebbe preso coscienza del delitto. L'uomo accusato di omicidio aggravato e tentato omicidio non appena verrà dimesso tornerà nel carcere di Sollicciano come disposto dal giudice. Il PM Laura Taddei ha infine chiesto al GIP l'incidente probatorio. Il magistrato vuole infatti capire se il 39enne fosse in grado di intendere e volere nel momento in cui ha sferrato le coltellate alla sua bimba.